Qualcuno di voi sicuramente l'ha riconosciuto, altri no, allora svegliamo subito chi è. Si tratta di Ted Dinvoulat, avvocato, avvocato francese, agente di Raffaele Au. Perché abbiamo iniziato questo video con la sua immagine, con una sua fotografia? Perché l'avvocato francese, Ted Dinvoulat, proprio ieri, in esclusiva a Sky Sport e a Fabrizio Romano, ha parlato, ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito al futuro del suo assistito, in merito al futuro di Raffaele Au. E ha detto questo, ha rilasciato queste dichiarazioni, dichiarazioni molto importanti. Ci sono tante false e fuorvianti informazioni su Raffaele Au, principalmente nella stampa italiana. Questo ha un solo scopo, paralizzare il dialogo cordiale e professionale che noi abbiamo con la dirigenza del Milan, in merito all'estensione del contratto di Raffaele. Attualmente stiamo lavorando insieme per trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti. La priorità del giocatore non è cambiata, vuole restare al Milan e continuare a crescere e progredire in questo club, in questa città che ama così tanto. Negliamo quindi fermamente qualsiasi desiderio da parte di Raffaele e del suo entourage ad abbassare la sua clausola rescissoria per facilitare una partenza del giocatore la prossima estate. Raffaele è completamente concentrato sull'importante obiettivo in arrivo con il suo club attuale e si augura, in questo periodo difficile, di poter lavorare con calma e serenità per tornare a vincere. Quindi avete conosciuto, avete preso visione di chi è che faccia a Teddy Vula, il procuratore, l'agente francese del calciatore e le sue dichiarazioni sono dichiarazioni importanti perché il Milan sta vivendo un momento difficile, un momento di blackout come l'ho definito già negli scorsi video, un momento di in qualche modo, come dire, confusione, confusione tecnica, confusione tattica, un po' di stanchezza fisica, probabilmente una preparazione che non ha dato i frutti che tutti noi speravamo, che lo staff tecnico sperava. E quindi serviva una presa forte, c'è stata una presa forte, una dichiarazione forte ieri il comunicato in Milan dove ha negato appunto dissidi, litigi con l'agente del procuratore, con l'agente del procuratore e ora, ieri, è stata importantissima la dichiarazione di Teddy Vula che spero non sia stata una dichiarazione esclusivamente di facciata, ma spero che siano intenzioni, parole leali, intenzioni, parole seri, intenzioni, parole veritiere. Ecco la smentita, quindi il Milan e il Raffaele Au stanno continuando a dialogare, stanno dialogando in qualche modo in maniera proficua, stanno dialogando in maniera professionale per arrivare all'estensione del contratto. Probabilmente ci sarà un'estensione non fino al 2027, addirittura alcuni parlo nel 2028, più probabile un rinnovo fino al 2026, però una cosa è certa, è importante allungare il contratto di Raffaele Au. E soprattutto in questo momento smentire litigi, diciamo situazioni contrattuali paralizzate, fa bene al Milan perché serve tranquillità, serve calma, serve lucidità per superare tutti insieme questo momento, in particolare per un giocatore forte, un giocatore simbolo, un giocatore leader tecnico nello spogliatoio rosso-nero. E chiudo questo video con una riflessione. Mettiamo che fosse vera la notizia che Raffaele Au, che il suo procuratore, che il suo agente Teddi Vula, avesse chiesto al Milan che per rinnovare il contratto, in qualche modo l'entourage avrebbe chiesto, secondo la stampa italiana, di dimezzare la clausola. Quindi in qualche modo fissare la clausola a 75 milioni di euro, perché ora ricordiamo la clausola è di 150 milioni. Quindi non è un problema l'ingaggio, quindi i 7 milioni che offre il Milan, addirittura alcune fonti parlano di 7 e mezzo, ma mettiamo che sia anche 7, non è un problema la cifra stabilita al Milan col calciatore. Quindi ci sarebbe già l'accordo per la cifra contrattuale, per la nuova cifra contrattuale. Il problema sarebbe la clausola. Ecco, a me sembra davvero strano che il Milan preferisca che i dirigenti rossolieri non facciano rinnovare il calciatore e preferiscano perderlo a zero, anziché in qualche modo guadagnare comunque 70-75 milioni di euro che permetterebbero di essere reinvestiti sul mercato, che permetterebbero di fare plusvalenza. E comunque, ok, è un mercato in qualche modo droppato, un mercato ormai gonfiato di questi prezzi, basti vedere le valutazioni del calcio della Premier League, basti vedere gli acquisti, i valori riconosciuti dal Chelsea e gli acquisti, però 75 milioni sono sempre 75 milioni di euro. È una cifra davvero importante, una cifra davvero, come dire, una grossa cifra. Sarebbe comunque un'ottima cessione da parte del Milan, eventualmente 75 milioni di euro per un calciatore, che comunque deve confermarsi in un top top club, che il Milan è un grandissimo club, è un club con grandissima storia, però abbiamo visto, vi stiamo vedendo anche il campionato di Serie A, ancora una squadra fragile, una squadra che non può competere ai massimi livelli. Quindi il giocatore dovrebbe imporsi in un Manchester City di turno, in un Bayern Monaco, comunque queste squadre che sono in questo momento nella fase di elite del calcio mondiale. Quindi io non vedo, non vorrei che ci fosse questo orgoglio di dirigenti rossoneri, o questo orgoglio da parte della proprietà, che rifiuterebbe un rinnovo, perché il giocatore chiede, il procuratore, il giocatore chieda di dimezzare la clausola. Non voglio neanche pensarci, è meglio sempre portare a casa meno, ma portare qualcosa piuttosto che perdere un giocatore a parametro zero. Quindi il giocatore ha smentito, vi abbiamo letto le dichiarazioni di Teddy Vula, avete conosciuto, avete visto chi faccia al procuratore così, in qualche modo nei prossimi servizi, nelle prossime dichiarazioni, avete bene in mente di chi si sta parlando. E questa riflessione, fatemi sapere, amici di Rubrica Rossiera, cosa ne pensate di questa riflessione finale, e quindi se eventualmente questo compromesso può essere la clausola dimezzata come exit strategy, come scappatoia per il giocatore in caso di grande offerta di un club estero, fatemi sapere cosa ne pensate. Se anche voi siete d'accordo con noi, che il giocatore piuttosto di perderlo a zero, è meglio comunque venderlo a 75-80 milioni di euro. Come sempre cliccate like e iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.